9 luglio 2013 ci troviamo alle scuole medie di San Benedetto Po e questo è lo scavo, forse non si vedrà benissimo, comunque la stratigrafia che è stata individuata presenta il primo metro di terreno di riporto con suolo, ghiaia e macerie, poi al di sotto, sotto il metro inizia il terreno in posto, costituito prevalentemente da sabbia e limo con la parte superficiale che è più limosa e poi sotto via via aumenta la percentuale di sabbia, è una sabbia media a fine. Bene, qui vediamo il primo strato, mentre qua vediamo il secondo strato, ecco, lo scavo è stato fatto con questo mezzo meccanico e la falda acquifera è presente a partire da 2,30 metri rispetto al piano di calpestio presente qui. È una falda leggermente in pressione e quindi risale di alcuni decimetri. Ci troviamo in un contesto di pianura, questo è il paesaggio.